coach ma serve fare i piegamenti sulle braccia sui pugni sono più difficili ma allora sinceramente non serve non serve se non hai esigenze particolari spesso e volentieri questa versione con i pugni a terra viene svolta da chi pratica sport da combattimento per allenare la posizione io personalmente non l'ho mai utilizzata non l'ho mai utilizzata in persone che non fanno sport a combattimento perché comunque una posizione scomoda sul pavimento c'è anche una posizione dolorosa per le nocchie della mano quindi sinceramente non c'è bisogno di farlo l'esercizio è solo più doloroso non è più difficile tecnicamente non è più difficile per nessun altro i muscoli lavorano poi alla stessa maniera però l'esercizio diventa un po più difficile perché è doloroso per la mano soprattutto se la fai non su un tatami non su un pavimento gommato ma se la fai sul pavimento poi ci sono persone che vogliono soffrire durante l'anno della mente quindi si inventano delle cose più assurde in assoluto però non hai un lavoro migliore del petto perché lo va a eseguire sui pugni quindi no assolutamente utilizza sempre una posizione comoda naturale per svolgere gli esercizi questo è il modo migliore per allenarsi alla prossima ciao